ovviamente questa è una scena quella che abbiamo appena visto assolutamente come dire inverosimile cioè può succedere ma siamo in un contesto americano come si vede nel video siamo in un contesto freddo siamo in un altro tipo di clima un altro tipo di cose dove i lupi arrivano addirittura nelle città questo succede anche perché tante volte noi esseri umani diamo da mangiare quando li incontri qualcuno e permettiamo loro di avvicinarsi all'uomo di avere confidenza cosa che non dovremmo fare l'uomo sta qua il lupo sta là e non fa la sua vita ma detto questo questi animali bellissimi sono veramente da temere e si incontrano veramente lungo il cammino cerchiamo di scoprirlo insieme io ho fatto ben otto cammini tantissimi trekking in lombardia e vi posso assicurare che a parte le cacche e le impronte io di lupi non ne ho mai 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 visti e come me tantissime altre persone anzi vi chiedo se tra di voi c'è qualcuno che ha incontrato un lupo durante i suoi trekking durante i suoi cammini di scriverlo nei commenti e di dirci così che ognuno si toglie ogni dubbio di dirci se questo lupo vi attaccati non vi attaccati se ne andato vi ha guardato incuriosito cosa ha fatto questo lupo quando vi ha incontrati scrivetelo nei commenti perché io non lo so perché non li ho mai visti ma c'è anche un motivo del perché non li ho mai visti e ora ve lo spiego però metti un attimo in pausa iscritti al canale così che potrai sostenermi con un'iscrizione semplice semplice gratis potrai sostenere questo il mio canale e anche il mio lavoro senza che te costi nulla ma a me serve detto ciò torniamo a noi e torniamo al lupo il lupo non va temuto è un animale bellissimo certo bisogna prendere dell'accortezza ma prima di tutto il lupo se vi sente arrivare se ne va ma no perché ha paura di voi perché non c'è voglia di incontrarvi non c'è voglia di incontrare a voi non c'è voglia di incontrare a me ho fatto casino con microfono non c'è voglia di incontrare a me non c'è voglia di incontrare assolutamente l'uomo e ne ha d'onde perché non ne ha nessun motivo non gli interessa mangiarvi il lupo nelle sue montagne nelle sue alpi negli appennini dove ormai si è diffuso tantissimo ha tantissimo da mangiare veramente c'è i cinghiali c'è un sacco di cinghiali sono tantissimi negli appennini e nelle zone montuose da tutte le parti dunque il lupo ne ha interessate voi ve lo assicuro anzi vi evita perché uno scontro con un essere umano per lui vorrebbe dire portarsi a casa magari una ferita che potrebbe far sì che venga escluso dal branco non gli interessa non gli interessate non vi volete non vi vuole il lupo non vi vuole non dovete aver paura comunque nel caso in cui doveste incontrarne uno delle piccole accortezze bisogna averle primo se siete in una gola in un passaggio stretto in un sentiero con i rovi di fianco eccetera eccetera ecco dovete liberargli la via di fuga il lupo deve riuscire ad andare via dunque allontanatevi piano piano senza mai dargli le spalle tenetevelo di fronte alzatevi ah ho preso il rovo hai visto parlavano di rovi alzate le braccia per fare i più grossi e più voluminosi e fate rumore fischiate battete le mani urlate e lupo si prenderà comunque paura e andrà via scapperà non dategli le spalle mettetevi a correre perché quello guardate è l'unica cosa che non dovete fare perché vi scambierà per delle prede ed i vostri allenamenti in palestra su tapirulana a correre a 10 12 allora non vi servirà a nulla perché il lupo è più veloce di voi sorpresa ve lo spoilerò è più veloce di o il lupo dunque non andate via schiena ma dovete fare appunto questa cosa qua se proprio proprio se inciampate e cadete per terra posizione fetale copritevi la giugolare perché vi attaccheranno al collo i lupi attaccano solo al collo ma questo proprio nel disgraziato la situazione più disgraziata incontrate un lupo che non si vuole fare gli affari propri andate indietreggiate ma inciampate sul sasso e cadete all'indietro e dunque diventate vulnerabili allora quel punto posizione fetale a coprire la giugolare ok questo è quanto ma non succede veramente l'ultimo l'ultima vittima di un lupo risale al 1825 e probabilmente io adesso non so bene la storia di questa di questo di questo attacco ma posso ipotizzare probabilmente che c'era un bambino che portava a pasco del greggio perché ai tempi nel 1825 200 anni fa i bambini portiamo già le pecore al pasco e il bambino per un lupo può essere una preda perché lo vede lo vede debole ok dunque io penso che sia stato questo però come pensiero e dunque noi non ci dobbiamo assolutamente preoccupare di di nulla dei lupi perché i lupi non ci faranno nulla anzi scapperanno io spero che con questo video possa aver risposto a qualche vostra domanda che per magari andrete ad approfondire da persone un po più esperte io posso soltanto parlarvi di quella che è la mia esperienza di quello che ho sentito parlando in giro con tanti altri camminatori delle loro esperienze spero che questo video diventa a sua volta nei commenti una mini ciclopedia sul come comportarsi su se uno li ha visti non li ha visti eccetera così ci aiuta tutti quanti magari da dei consigli sicuramente anche più utili dei miei io nel frattempo sperando avervi fatto ancora una volta una cosa gradita vi saluto e vi rimando al prossimo video che tra l'altro affronteremo un altro tema ben più serio che quello dei cani pastore perché noi ci preoccupiamo dei lupi che in realtà sono animali molto schivi che non hanno voglia di incontrarci non preoccupandoci in realtà dei cani perché i cani che sono abituati alla presenza dell'uomo sono ben più pericolosi e ci sono moltissimi casi di attacchi dei cani all'uomo ed è quello che a me personalmente non mi fa un paura i cinghiali non mi fa un paura i lupi non mi fa pure gli orsi mi fa un paura i cani e questa cosa la approfondiremo in un altro video se volete se vorrete scrivetemi nei commenti anche questo insomma scrivete tutto quello che volete nei commenti qua sotto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ma camminando camminando è tutto qui mi taccio vi saluto al prossimo video ciao